basta la vista, ma stai riprendendo me? si! allora mi stai facendo un video? si! ma mentre stai guidando? no! sei sicuro? sono fermo! bassi i piedi? non posso! questo l'alto animale! anche oggi le mosche non scherpano si! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi avevi detto, saltiamo, facciamo la pirouette e ora mi stai interrogando, cazzo. Quindi iscrivetevi al canale, mettete un like e ci vediamo alla prossima puntata, prossimo volo, il FBB, drone e aereo, per il mio cuore. Viensi con po' di nuovo.